In quanti la stavate aspettando? In quanti la stavate aspettando? Seconda sconfitta di stagione, cari amici napoletani, cari amici napoletani, prendete quelle bandiere che voi avete portato allo stadio, prendete quelle bandiere con il tricolore e ve le dovete ficcare, sapete dove? Sapete dove non batte il sole, perché voi siete già sicuri che il Napoli ha vinto lo scudetto, il Napoli ha vinto lo scudetto, c'è tutto un girone di ritorno da giocare, ragazzi c'è tutto un girone di ritorno da giocare, complimenti alla Lazio, perché bisogna fargli i complimenti a questa Lazio, bisogna fargli i complimenti, perché si è messa lì e poi è ripartita, ha giocato da provinciale, non mi ha fatto niente, ha fatto la partita che doveva fare, ragazzi, bellissimo gol di Vesino, è inutile dirlo, è inutile dirlo, il Napoli ha fatto due tiri in porta, due, due tiri in porta, seconda cosa, seconda cosa, ora, ora voglio vedere chi è il tifoso del Napoli, perché già io mi immagino la rivolta contro Spalletti, la rivolta contro Simena, la rivolta contro Quara, c'è, andranno a meno 15, a me non mi interessa, a me non mi interessa, ma io odio e dico odio i tifosi napoletani che vanno allo stadio già con lo scudetto sul petto, ragazzi non abbiamo fatto nulla, lo volete capire sì o no? o pulite capire sì o no? oh mamma mia, e tu vedi quello già col tricolore, e quello che si è fatto il tatuaggio, e chi l'ha, ah odio il tricolore, teniamo le magliette, già stiamo dobbando Napoli, fate i seri, fate i seri, perché lo scudetto si vince quando c'è la matematica, no quando stai già a più 18 e pensi di aver vinto lo scudetto, mamma mia, mamma mia, mamma mia, io questa cosa schifo di noi napoletani, forse, odio ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro, se il Napoli, se il Napoli già con l'Atalanta non ritorna a fare i tre punti, il Napoli è messo malissimo, il Napoli sarà messo malissimo, io già lo dico, già lo dico, perché questa sera è bastato chiudere lo botca, hanno chiuso lo botca, il Napoli è scomparso dal campo, è scomparso dal campo il Napoli, quando io dicevo guardate che il vero top player in questo è Napoli, è lo botca, se chiudono lo botca chiudono il Napoli, e cosa è successo? Chiuso lo botca, il Napoli non ha fatto nulla, ha preso pure una traversa, diamine, io non sto mettendo in dubbio, ma l'ha presa anche la Lazio, quindi, quando andate allo stadio e cantate, già abbiamo vinto il tricolore, stiamo già addobbando la città, stiamoci calmi, andiamoci calmi, andiamoci calmi, e quelle bandiere, già con il tricolore disegnato, perché io ho già visto le magliette, con lo stemma dello scudetto qui davanti, mattita velo dove non batte il sole, però vaiù, sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Napolis 1926, sono ingazzato? Sì, ma ci può stare, ci può stare, complimenti alla Lazio di Maurizio Sarri, vaiù, perché bisogna essere pure sportivi, visto che molti napoletani, youtuber napoletani, non lo sono, ciao vaiù.